Anche l'ultima relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, ha confermato come si è proseguita anche nel secondo semestre 2019 la riorganizzazione in atto tra vari gruppi criminali nel Salernitano. La costante azione repressiva alla quale hanno contribuito con le loro dichiarazioni anche i collaboratori di giustizia ha prodotto diversi effetti. L'arresto di capi e promotori di numerosi sodalizzi ne ha determinato la scomparsa dalla scena criminale ma in alcuni casi affiliati privati dai vecchi riferimenti sono transitati in altri clan non colpiti dai provvedimenti. Una situazione è quella salernitana dove, secondo i dati della DIA, coesistono organizzazioni di tipo camorristico con genesi e matrici criminali differenti. Questo a causa anche delle differenze tra le diverse zone del Salernitano, dal capoluogo all'agro nocerino sarnese, Valle dell'Irno, Costiera Amalfitana, Piana del Sere, Cilento e Vallo di Diano. Le organizzazioni storicamente più radicate sono state in grado di rigenerarsi. Una capacità confermata dalla presenza sul territorio di indicatori tipici della camorra come danneggiamenti con attentati dinamitardi ed incendiari nei confronti di imprenditori, il traffico anche trasnazionale di stupefacenti, estorsioni, usura, controllo del gioco d'azzardo ed altro. Tra questo anche truffe e i danni dello Stato. Le attività delinquenziali maggiormente diffuse sono risultate il traffico e lo spaccio di stupefacenti, provenienti in gran parte dalla provincia di Napoli, principale canale di finanziamento ed arricchimento, peso importante tra i clan, anche l'usura e l'esercizio abusivo del credito, oltre che truffe verso lo Stato e le compagnie di assicurazione. Uno dei settori maggiormente esposti all'infiltrazione è stato poi quello degli appalti, con condotte illecite di soggetti mafiosi, ma anche amministratori e dipendenti degli enti. La relazione inoltre ha delineato una mappa dei principali gruppi operanti sul territorio con tre macro aree, ad iniziare dall'area urbana del capoluogo con il porto commerciale e al centro di diversi traffici, anche illeciti. Sempre a Salerno, confermata la presenza del clan d'Agostino nel traffico e spaccio di stupefacenti, usure e distorsioni, al quale fanno capo anche gruppi locali minori, confermi anche in altre zone della provincia, dai Pecoraro Renna, ai Defeo e ai Maiale.